oggi andiamo a presentare questa nuova stampante della primera è una stampante che non solo stampa colori etichette adesive ma è una stampante che ha la possibilità di tagliare le etichette della forma che noi desideriamo quindi veramente una novità vedete abbiamo stampato diversi bollini una stella le forme le possiamo decidere noi andiamo a vedere come è facile utilizzarla abbiamo preparato tre layout diversi una stella grande un etichetta con una forma a sella grande quattro bollini quindi quattro forme circolari e quattro forme diverse quindi due tondi e due con con una forma arbitraria arbitraria andiamo a stampare e vediamo come funziona la stampante prima stampa poi va ad effettuare il taglio ha una stampante estremamente veloce e molto precisa nel taglio in questo caso stiamo stampando la nostra stella la nostra forma stella e come vedete la forma è perfettamente tagliata precisissima deve staccare facilmente andiamo a vedere anche sulle altre forme posso stampare anche un etichetta alla volta comunque il numero di etichette necessarie senza nessuno spreco di matrimonio in questo caso sulla stessa carta adesiva lucida stiamo stampando quattro bollini quindi non ci saranno più minimi tipografici non dobbiamo più coordinare diversi migliaia di etichette per singola grafica ma possiamo stampare il numero di etichette desiderate con quella grafica senza assolutamente nessuno spreco come vedete sono usciti quattro bollini perfettamente tagliati andiamo a vedere come si comporta sull'ultimo layout che era composto da due bollini tondi e due forme arbitrarie questa stampante è anche di taglierina quindi volendo dopo la stampa e dopo il taglio possiamo stampare tutta la striscia di carta in questo caso possiamo utilizzare dei ratori di carta continua quindi sulla nostra carta continua possiamo mettere tutte le forme che vogliamo stamparle e tagliarle secondo le dimensioni e la forma desiderata è molto facile da utilizzare eccole qua e queste erano come vedete perfettamente tagliate queste erano le forme che avevamo stampato quelle particolari e qua c'è il bollino quindi è una stampante utile quando abbiamo diverse tipologie di stampa non dobbiamo più metterci in casa delle etichette per le tagliate ma bastano dei rotoli adesivi in questo caso è carta lucida continua ma possiamo ovviamente utilizzare il polipropilene, il poliestere, oro, argento insomma una vasta gamma di materiali per dare le forme che vogliamo alle nostre etichette se vi interessa questa soluzione di stampa potete contattarci ai nostri riferimenti